salve ragazzi qui del 38 e la webcam ok eccomi allora sono con i miei amici con rex e griffus che griffus arriva fra poco e niente ecco rex e siamo qui a giocare e devo far vedere allora una cosa e poi della mappa perché comunque mi sono allenato infatti mo vi faccio vedere che cosa mi sono potenziato perché mi dovevo potenziare sennò ci fanno un po il culetto mi sono dovuto mettere vedete mi sono potenziato un po qualcosina quindi qualche abilità extra mi sono dato buono tranne questo che servo due io detto va bene questi qua poi con calma queste praticamente l'abilità sono qua la forza qui la difesa e qui la le tecniche di combattimento con la spada quindi a posto è una cosa molto comoda io intanto mi sono potenziato sia l'attacco e sia la vita infatti si è allungato pure la sbarretta di sotto in tutto ciò dobbiamo andare un attimo lì vi faccio vedere una cosa intanto perdiamo se mi ricordo i tasti perché sono crescino ok toglie un po' di ciclo gatti da tagliare eccoci tolle robert 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 modo da arrivare la prima volta di un guagno paolo spettino dimmi che la mia domanda di un po' di un posto nuovo questo questo è praticamente il dantwin di di conoscere e più o meno ma guardate qua qua già ho il è il giardino che avevi in Night of the Republic dopo che avevi convertito le missioni base avevi tranquille come una sorta di mondo in cui provare le tue nuove abilità qua fanno una cosa divertente, guarda come scappa questo, e olè lo sapevo no, un ciclope e il fratello gatto, dove è andato? è tipo una talpa, un gatto talpa è un gatto talpa, beh, è un ciclope come tutto uno, oddio, guarda lì c'è là c'è qualcosa che viene da dire, sono distratta ora si deve dopo dei fischi oh, bastardo come ti permetti è bellissimo, mi hanno mandato da un incontro la fauna è sempre così violenta ah, attacca anche questo, guarda come aspettava l'attacco, ecco, bravo si è questo mi fanno ecco, ti sei allenato, ti sei allenato su questo pseudo d'Antuina da ammazzare animali si, si, mi sono allenato praticamente solo con queste besi che tanto li spottano ogni volta che ti curi, quindi a proposito, guarda quanto è grosso quello ecco, ecco lì guardano lì, altro che altro che il gioco è quello della storia infinita è il canale della storia infinita never ending story no, ma più che altro ho scoperto che questo è il guardiano del pianeta è visto per i nativi il guardiano del pianeta figurate lo adoro i geni per colazione no ecco vedete come salgo la sbarra di esperienza quel coso rosso quello là praticamente salgo di livello è lui è lui è lui è lui maicolo maicolo vai a prendere i pulli si ha detto lui per il golzillone gigante è una drago gonzina è un suo cugino che è più simile a una salamandra che non ho avuto a penna ciao ma è lui guarda che carino che è è troppo bello non puoi uccidere l'uomo e mi arrabbio se lo uccide l'uomo non lo devo uccidere se vuoi e luca che vuole che io ammazzo tutti comunque dobbiamo andare per il gioco caso non ammazzarlo perchè non io uso ma io cavalli calo cavalli altro non posso non credere non credo che è possibile che risputa anche fuoco no non crede un'acqua e non puoi guardare la mano di loro scuola di più no 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 ma stai scherzando non posso a parte che non mi curo per te riposo mo usciano l'uomo tornare il proprio dice adesso chi è il giugno di si ma avete visto che mi ha appigliato e mi ha masticato male no comunque siamo comunque sono troppo lontani da dove eravamo prima e perchè il codro del rospo disgraziato sta qui e qua e non posso più arrivarci no no dobbiamo fare tutto un percorso dobbiamo arrivare la sotto bene ne troveremo le viaglie si ma sicuramente allora perchè quello era un boss fight si lo so che devo andare di qua ma finalmente continuiamo la saga mostri da eliminare un fratelli gatti dal buco ecco è rospo ecco la guarda lo guarda lo stavano ecco l'abbiamo chiamato lì per lo posto no lo so vuole mangiare ma non è un altro oggi si manda si mangia il coso guarda che si mangia il ciclope il ciclope gatto l'ha mannato l'ha ucciso sei l'ha ucciso proprio l'ha solo ucciso per divertire l'ha ucciso ah ma volevi fottere no però devo far fuori moch quello vuoi aver capito che devo far fuori a no rospo allora prova a saltarlo magari non ti guarda ti mastica solo e ti sfuda dove sei? scappa scappa no vedi che la vita sua è più tranquilla rispetto a quello di prima aia ah è vero ecco te capito guarda che bello che è ahahah aia fai male e va bene ha capito devi rotolare dai che ha poca vita curati quanti amano no aspetta vaffanculo ho fatto ah poi come posso fare questa lui può scannare i cadaveri cosa un tanto guarda come è morto ok ok però dovrei curarmi non posso il problema che non posso curare non c'è proprio una donna ormai sei schillato no mi sono poi allenato per oh bravo bravo adesso il prossimo obiettivo è andare da da cosa da falcon dal cugino di falcon eh si è il cosa il tizio come si chiama il fortuna drago che abbiamo visto prima che ah è giusto ma io posso ah no non posso notare per di là eh perchè potevo ritornare dove prima non ti puoi appendere lì no cioè vorrei provare a saltare ma credo che non posso non ce la faccio ho paura di saltare vediamo un po' perchè volevo vedere se potevo ritornare per curarmi lì invece ritorno qui sopra ok vediamo un po' no vabbè dobbiamo esplorare più che esplorare capire però madonna quanto è stato fastidioso quello meno male che mi sono allenato un pochettino perchè sennò qua erano guai eh da ah interessante eh uuuh lol lo seguo posso ritornare qua per riposarlo quindi vuol dire che possa riaffrontarlo se vogliamo si dai è ancora è ancora no ancora vabbè mi da un po' di esperienza eh eccola guardatelo guardatelo però io non muoviti ma se io taglio qua non credo che posso tagliare voglio capire il dato passato no non so saltare dietro bigliano è tutto bene sì sì ecco loro lì mi piace quella posa da pensatore riflessivo che ha ah è vero a te mi sono scordato di te come stanno in attesa per l'attacco guardali questa è una cosa che non mi piace del gioco sei qui e non ti attaccano devi per forza passare per di qua guarda che bello che è lì più rotto hai gestito lì più rotto ma perchè madonna con me carica ma perchè madonna con me carica e baffè insomma potessi avere un gel da masticare e invece no no secondo me stava pensando a problemi seri tipo perchè nessuno mi metti mi piace e mi fa visto oh eccoci esatto no il primo posto influenza precisi no la mia bocca oh è bella è morto con bella stavolta andata bello si stavolta si è perchè sto ho imparato un po' la sua tecnica perchè se no non sapevo come andare vabbè la tecnica di combattimento più o meno bene bene combattimento del gioco cos'è che in giro che prenderò la scuola di nato uuuuuh che carino sono tutti qua sotto si comunque io mi di curo sempre giusto per da che mi diverta no conviene anche se rispottano chi se ne frega cioè conviene questo gioco funziona così tanti si è riposato si si tanto non è che vado indietro non mi serve adesso credo che devo passare forse no dai chris non ho scopo ma cosa no vorrei capire hai scoperto che hai fatto muovere la mappa o lo stai scoprendo adesso che no lo sto scoprendo adesso io vi ho aspettato eh cioè praticamente non sono andato avanti mi sono allenato ma tu non puoi tornare non puoi tornare a vedere e non puoi dire uuuuh no è andato male qualcosa non si è sottolineato il maninetto ehi mi ha salutato no che succede mi avevo notato non è una manina ciao delta guarda che fai un'altra supermazia punto in realtà pesce para eh ah proprio io posso fare le analisi eh cioè banca dati io posso praticamente andare eh perché devo togliere il coso il pesce para eccolo qua il pesce para è un reward praticamente eccolo qua eccolo qua eccolo qua eccolo qua vedete eccolo qua per farvi vedere guarda che bello vai prima vai prima che vogliamo leggere la storia vogliamo leggere la storia dell'oro dai leggi leggi dai allora i bograt parassiti comuni sono predatori che si nutrono di piccole creature come i bogling la vita scarsa li rende una facile per la per le loro vista 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 sì che sarebbe questo coso circondano io sì sì eh sono io log esatto quando c'è sottoterra a mo a mo mi piace a mo ma scusa ma è italiano comune dire a mo è mo è mo è a mo sei tu sai che tipo è corretto nel dizionario mi sa sì sottoterra a mo di difesa cioè stile di difesa difensivo a bo ho paura spesso attaccano in branco e circondano i nemici sono notti per il fatto di nascondersi sotto terra a mo di difesa prima di lanciarsi all'attacco sorprendendo le loro prete dopo aver dato l'impressione di ritirarsi la loro pelle indurita li rende quanto resistenti alla spada laser non mi sembra passare relativamente resistenti esatto vai all'occhio lo lo è un altamente pericoloso in cima alla catena alimentare tipo gano questa creatura attacca con una lingua adesiva no ma che cacchio fai ho sbagliato tasto faccia di raggiungere gli otto metri di portarla alla di portata chi si aggancia la freda e la tira a sé nelle sue fauci questa forma d'attacco ecco è particolarmente efficace la maggior parte dei nemici a causa della spessa pelle è in grado di resistere a un attacco diretto con la spada laser ed è estremamente pericoloso a distanza avvicinata e deve andare giù non riesco andare giù non riesco andare giù quel problema non mi fa andare giù no c'è questo non lo so non mi fa andare giù per questo ho sbagliato vabbò i piccoli e sottili per planare sul terreno sono in grado di confondersi e fatti vacillare i loro nemici fornendo così ad altri il tempo di attaccare vabbè e basta beh possiamo andare bene ma i pesci io non li vedo e infatti no ma l'ho voluto farmi la cosa quindi l'analisi eh no perchè i pesci para parano invece i pesci degli Obi-Wan di Battlefront con la spada e la madonna che cacchio bello però io vorrei attaccare quei cosi mi piace la mia teoria su non mi fai uccidere il terreno di questo pianeta è che sono stati così massacrati per generazioni e generazioni da cavalieri Jedi che venivano fatte addestrarsi a farmare su di loro diciamo e quindi la loro pelle si è evoluta a resistere uno o due colpi di spada però bambini nel senso la natura della evoluzione i punti evolutivi hanno detto uè cazzo c'è la spada laser che è super potente cosa facciamo poi sprechiamo tutti i nostri punti evolutivi per cercare di renderla un po' inesistente però bambini vedi che sta succedendo perchè qua c'è una cazzo stanno scappando stanno scappando ehm devi smettere di drogarti ragazzo mio eh te lo posso dire per tutto ah no è vero questo ecco perchè hai capito che devo fare questa cosa me l'ho scordata ah no dove vai dove vai dove vai dove vai dove vai dove vai no no è giusto è giusto oddio si il Venator ma che bello è difficile oddio calda bambino che carino che era aspetta mi ascoltare affronterai qualsiasi ostacolo niente potrà perdonarti e adesso fa quel che devi per raggiungermi ehm ehm ok ehm ma cosa ehm 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 non così dovevi fare come già vi faccio schifo si è vero ecco quello che devo fare non così no così vedi ecco cosa devo fare di nuovo ehm ecco perchè io non andavo non riuscivi ad andare dall'altra parte prima avete capito? perchè non me trovavo perchè avevo capito che c'era un muro strano ma da quando in qua sul Venator puoi fare tutte quelle cose? ma che figata ma lo voglio anch'io una camera sul Venator che mi fanno sottellare adesso da parte tu mi stai dicendo che devo fare così vai ah fatta il Venator il Venator scopre sempre qualcosa di nuovo poi ti guardi The Clone Wars scopri che in Venator hanno le piattaforme che scendono giù di botto quelle dell'hangar dici ma cavolo il Venator avete capito? ora dobbiamo ritornare indietro perchè abbiamo sbloccato quell'abilità ehm infatti io avevo notato che avevano un disegno strano queste mura io l'avevo notato infatti saltava ai lati e cadevo come un cretino ahhhh ma è strabiliante no ma che bello fai il guardia pure adesso se non che prima non lo facessimo adesso è il parkour figo guarda eh si moglie a sto punto salvo c'è la vita tanto posso vabbè salvo giusto per sicurezza a parte che ci sono alti mostri così maestro il maestro da palla come si chiama? maestro da palla come si chiama? maestro da palla a più che altro io voglio arrivare là perché c'è qualcosa lì però la sat la sat la sat è lì? quello lì? no la sat ha rubato ha rubato l'armatura ha rubato l'armatura ha rubato l'armatura obi-wan e la veste di anethine no vale per quello non più a partire dalla seconda stagione no ma poi non sei tornato da sotto mannaggia a te no io volevo arrivare no io volevo arrivare là capito volevo arrivare là dietro solo che fai eh ma non so aspetta usa le tue abilità della porta Jedi guardo eeeh 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 il cavo è ottimo buona sapere ah qua non funziona ahahah ci aspettavo finiva qui a militare esatto ma dove dovremmo andare eeeh dove era che dovevo salire qua sono salito eeeh eeeh ah si sto cretino eeeh sai che bolletta mi inseglie arriva sti qua che hanno tutte ste torce accese hai capito eh minchia si decisamente madonna perchè non cerca perchè sono evasori delle tasse imperiali eeeh ma se io lo attaccassi da qua i belli maledetti piccola è arrivato solo per dire a me e per stare è stata fatta in seggiasi capace omo posso fare questa barba o paura adeguato il progetto almeno potevano e che sciacchino almeno i cubi lunghi e asso catano invece li ha porti nonostante come si è cresciuta lì mamma è un altro tipo di il corso come rex sono come gli attributi non tutti ce li hanno ah ma la ci sta un po... ah ma aspetta! no sbaglio... no pensavo che potevo... no no sapete perchè ho trovato una cosa che mi interessa delta i suicidi bens ok no allora quello che ha il mio interesse è il fatto che non ha paura di cadere cioè lui quando vede un precipito ci si butta, poi c'è l'orto via no ho capito l'errore mio ok vabbè 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 ok dobbiamo andare per di qua aspettate ok muovete capito che devo fare? devo andare per di qua adesso... ah qui posso saltare dai cammina sui muri dai cammino sull'altro muro no perchè mi serviva questo eccolo qua perchè c'era uno scritto perchè non vai dalla tizia con gli occhi che escono fuori dalle orbite gli dice guarda che ero patica non il territorio della spada nasa ha ottenuto il valore della saggezza 2 bene 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 ok ora posso fargli cambiare il cuore con questo nuovo interruttore cambia colore posso farmi la bioma penso che la puoi personalizzare a livelli estremi si si esatto esatto però ancora non lo sblocca sta cosa no 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 bello solto oh che bello vaccinazione eh no e' la segnata funziona con i soldi dei contributi no no perché mo devo andare da una parte per forza devo attivare prima sta cosa ma posso eliminare questi qua e va da vedere dalla scatata voglio fare un giro a questa famiglia e non solo le donne ma anche gli uomini le donne e i bambini non vanno cittare a me è vero hai capito ci sta andiamo questo ancora sta qui ad aspettarmi ovviamente ti pareva Sì, schifo Non voglio morire Tu morirai Ok Forse sta cosa perché devo andare a aprire uno scrigno Vedete, c'è uno scrigno da aprire La lana Vengilo come la lana Yeah, pure tutto E come, ero sicuro di averlo Ah, che peccato, ero sicuro Vabbè, tra l'altro dobbiamo andare per di là adesso Ok E se buttati di nuovo No, no, no Oh, eccoci qua Più mille, un aiutino Grazie Ottimo tempismo Modo da andare per di là Oh, che bello Oh, siamo arrivati al tempio Bello Dove è falco? Ma chi è? Ah, già giusto No, ma giù l'altra parte L'altra parte è una nuova, guarda che è giusto E sull'altra cresta Fortuna Dragon Un'altra parte è una nuova Ma vado per forza Questa è un'altra parte Tenta guarda sinistra un attimo Non mi fa andare Non posso girare la prospettiva Segue per forza Questa direzione Ha un pezzi Troppo Il progetto Il progetto Il progetto Il progetto roma roma si chiama se mi cazzo posto riparati erai è imparato bene te la sei meritata perchè cambiato e per questo ma posso via il mio punto o acqua non è stato quando fai non lo so aiutata perchè la cosa fermo volevo vedere il panorama ma oh ne hai fatto ecco la destra ecco la destra vedi che è lontano volevo vedere qua che cosa c'era magari c'era qualcosa prima di entrare nel tempio guarda la nostra nave sta la intorno ma io volevo vedere il tempio eh mo andiamo a vedere il tempio volevo esplodere ah ma allora c'era un astereg eccolo la c'è un tempio infatti ero curioso lo sapevo no il fortuna drago morto no che cos'è è sorridente fino nella morte è sorridente era morto felice vedi cosa dice scheleto misterioso vabbè scansione non è misterioso è il fortuna drago scheleto misterioso ah giudica miglia anni fa il mitolo all'interno dovrebbe essere un grande rettile morto circa miglia quindi non è lui allora non è lui è un antenato eh sarebbe ma magari magari il suo fratello ha detto chi ne sa quanti anni vivono qui così ah qui c'è una colonna vertebrale si era tutto ok no stavo guardando il paese ma sta zona non la conosco no 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 volevo vedere si può passare no perché si può arrampicarsi vedo ci si può arrampicare quindi in teoria è una zona visitabile è andata visitare ed entrare nel tempio tanto possiamo scelta tanto cosa andata un po' semplice vedo un po' in officina abbandonata zitti abbia scoperto una cosa nuova abbia scoperto una cosa nuova zitti zitti adesso trovi la mamma dell'ipnolospoli dentro no la porta è chiusa che fa hai visto il mio figlio un gioco aspettato ci speravo però ho scoperto una zona nuova bene però potrei uh ci sono gli animali che vuoi uccidere andiamo a ucciderli qui così ero sicuro belli volevo dire se c'era qualcosa della repubblica magari tutto chiuso che fa calma siamo ritornati indietro molti indietro e molti chiudere la porta e non si apre più si sa che vivere no abbiamo sbloccato l'area praticamente ma è solo attività guarda quello che fa la guardia che cazzo ha 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 siamo passati è un maledetto lott gatto gli odi gli odi gli odi gli odi gli odi gli odi ecco mo abbiamo scoperto una zona nuova meno ma dai ora possiamo anche andare vedete che esplorare è importante è quello che gioca con la coda complimenti città io voglio troppo per un lott gatto di nome silvestro sempre doppiato da popolo piccino per gioco anche io no no v i fiammi ma questa è tutta una area da esplorare forza qui in futuro poi tanto l'azienda si buttiamoci di sotto no no non so il tipo è meglio è comunque la cripta antica cripta lo dice proprio è una cripta minzica non vedi più o meno troverai il fantasma di non lo so di chiedi monditi così a caso i figli attestati vedo se c'è qualcosa quello fa male oh che cosa c'è la roba raccogli che cosa c'è da analizzare ah guarda anche adesso c'era qualcosa si si no quella è la porta io raccogli che cosa ancora aveva detto di analizzare ah cioè sta analizzando tutta l'aria offerte gli altri gli altri vanno portati in salvo non c'erano tipo vaso e non c'erano i tavoli di mogano per caso non lo so io 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 salvo sempre per questi giochi solo per click questo un'esclusiva per l'ikea quando dopo andremo su che chic sono molto curiosi di a proposito possiamo vediamo quasi abbiamo qualcosa a sbloccare no niente perché ci sono due punti per questo abbiamo solo un punto quindi vuol dire che dobbiamo livellare ancora un poveri un poveri un poveri bene adesso ci tocca vedere qua entriamo usa la forza una critica anzi raga ma che entreremo continueremo nel prossimo video così abbiamo fatto una bella parte di esplorazione però il protagonista è una facciolarità imbecille però posso dirlo ma no perché dai non mi piace sembra ricoglionito è un po' ricoglionito non lo so perché è un fesso ma proprio allora data come crone pilota non vorrebbe avere Kai come comandante no sì che bello un posto buio e misterioso buttatici dentro allora allora facciamo così essendo una cripta abbiamo fatto un po' di esplorazione abbiamo scoperto cose nuove anche nuove abilità non so quanto è durato il video ma non deve durare troppo sennò può diventare noioso quindi passiamo direttamente alla seconda parte cioè in senso stop la registrazione raga e continueremo in questo punto tutto